OH GRIE I SAPEI I SAPEI QUANDE ERMA FU VIDEO PASI E benvenuti ragazzi in questo nuovo video Oggi siamo su Minecraft Non ditemi perchè Siamo su Minecraft Playstation 4 Edition Perchè su PC mi scocciavo Mi scocciavo veramente di farlo su PC E in questa compagnia siamo con il re di Re Pachy Vipe 27 E ci ho messo un po' a fare questo video Perchè come potete vedere il mio personaggio Ci ha messo 3 giorni per resuscitare Quindi E quindi iniziamo adesso Iniziamo subito Oh la casa bonus Non è vero Nooo non vengo niente Non vengo se è uscito Se lo lascio è uscito Sì ma Sì no è vero Se lo lascio Te lo giuro su mio padre E mio padre è Dio Ostri non sono fatto arrabbiare Ora Ora Accoglieremo un po' di legna Legna di betulla Legna di foglie E Questa parte Visto che è un po' noiosa Ci vediamo quando abbiamo raccolto tutto Tutto il legno Oddio ciao gente E eccoci qua Ritornati ragazzi Abbiamo raccolto un bel po' di legno Che qua è Cioè praticamente C'è il mondo del legno Ma dobbiamo uccidere I pecori lucreggio Perché i pecori lucreggio Faccio qua Che cosa fanno i pecori lucreggio Racconda poi I pecori lucreggio Si narra Tutto in Calabria In Sicilia Che un uomo che si chiama Aldo Calabrese Abbiamo Diciamo Seminato Un po' di grado No? E poi sono usciti I pecori lucreggio Ah Così proprio Sono nati i pecori Si Dipende No I pecori lucreggio Ducreggio Sono nati seguito Quanto aiuto Oddio Sono nati seguito Quanto aiuto Aiuto Mori ho paura Mori ho paura Guarda qua Che cosa ha Cap che faccio Tu non avrai mai Il coraggio Di fare questo Mi sta ancora a seguì Mi sta ancora a seguì Aiuto Ma che vergogna Facciamo Di schifo Gioco a manga E' l'ultimo pecorro che ci serve Stop Di schifo I Di schifo Ito Di schifo Non da Un assasino E' l'ultimo pecorro che ci serve non ci conviene più a dormire non ci conviene più a dormire oh porca pudina credo che ho visto una cosa brutta facciamoci la casa qua mezzi rocci mezzi maceri ragazzi ragazzi ce l'ho fatta io ho trovato legno guarda la scuola ci stanno ci stanno a nei non è vero stai a robito babbo nata sta darzan come si chiama giung che è che è il letto mio e il letto tuo qui così quando responi pigli e muori che è che è schifo ma fai una bella cosa ci siamo a questo ok non l'ho manco ammazzato adesso per morire io per ammazzar quello ragazzi sto per morire nooo è freddo facciamo a pigliare mattoni nooo allora ti banno questa è la nostra piccolina casina perché c'è la lappa che cazzo cacicco boh non ho capito che cazzo c'è dras ma anche delle leite ma no perchè non ho capito che cazzo io ho capito che cazzo via E' già, fai schifo, fai le mani da pasca Cosa stai facendo? Crescere l'albero con un po' Perché? Perché? Ti faccio crescere l'albero con un po' Gas Dammi un po' di pietra No Ah, non ti rompo casa Faccio più, faccio più Un po' di pietra te la do subito, amico Devo fare la prima cellula Eh, un blocco Tieni a Ragazzi, se siete del buiaka, buiaka, mettete like Ragazzi, vado a dormire un po' all'albero No Eh, vabbè ragazzi, direi che questo video è tutto No, ci siamo fatti pure le case Le case poi Mi ho fatto le... Le case Vabbè, la tua La mia proprio no, però vabbè Vabbè Vabbè, noi ci vediamo nel prossimo video Mettete un mi piace se volete che continui Se mettete un mi piace non continuo più Va bene Addio, ciao Un saluto generale a tutti i miei fans E a tutte le ragazze future che si faranno leccare i piedi Tutta la gente che mi vuole bene E no a quelli là che non mi vogliono bene Ciao Ciao